Amo, sei sempre il solito! Ma cosa posso fare se non ci si può muovere? Ah sì, eh! Peccato che la Biona è a Pormentera, la Bene, la Bene Garibaldi, è a Mykonos e la Viola, sai dove è la Viola? È a Santa! Sì, ma loro lì hanno le seconde case, e noi già tanto se ne abbiamo una, pure col mutuo. Va bene, ok, ma io qua a Milano non ci rimango come una sfigata, va bene? Amore, ma fidati di me, la vacanza non è una questione di luoghi, non importa dove si è, se ci si ama davvero, la vacanza è uno state of mind. Un'altra alta 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 perfetto no Un'altra alta alta‥ Un'altra alta Un'altra alta Un'altra alta Ma smetti, a tu è lo state of mind Vabbè Belin, ci ho provato No, ma io adesso come faccio con le foto? Quali foto? No, forse tu non hai capito che l'unica cosa importante delle vacanze sono le foto da mettere su Instagram Cioè, secondo te, perché io ogni anno voglio andare in posti super top? Ma io pensavo che ti piacesse il mare Ma figurati, tutta quella gente sudata in spiaggia E la montagna? La montagna, una noia che mi rompo le scatole dopo un secondo Almeno il lago Una depressione che preferisco l'ufficio sicuramente Vabbè, comunque, se il problema sono solo le foto, la soluzione è semplice Cioè? Oh, va bene così? No, 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 ancora un girato a New York Va bene, dai Quest'anno le mie amiche schiattano di invidia Averlo saputo prima, ma quanti soldi avremmo risparmiato gli anni scorsi? Averlo saputo prima, ma Александre